ci siamo ok bene buongiorno a tutti iniziamo questa seconda parte della questa prima giornata della winter school su quello che giulia ha detto i laboratori il laboratorio da proprio l'idea di un mix di persone con competenze diverse esperienze diverse storie diverse che discutono parlano e pongono degli interrogativi su quello che è l'innovazione e su come arriverà su come è già arrivata e su quanto cambierà la la il nostro la nostra visione del mondo ma è anche del dei nostri del nostro sistema sanitario nazionale stamattina ho sentito la presentazione di di claudio zanon e l'intervento di altri colleghi quando si parla di innovazione sono due le parole che mi vengono sempre in mente organizzazione da un lato perché l'innovazione perché sia accessibile deve avere un contesto che la renda fruibile sui grandi numeri non sui piccoli numeri sui grandi numeri e l'altro è sostenibilità è oggettivo siamo una società almeno con l'italiana che invecchia e l'oxel verso oxe noi abbiamo il primo paese per over 75 anni con pluritrattati e parallelamente siamo un paese con una natalità tendente a zero o comunque nettamente insufficiente a sostituire almeno non cresce come dovrebbe crescere abbiamo una spesa privata non intermediata che ormai raggiunge 40 miliardi di euro e tutto questo bisogna farne una sintesi bisogna che trovare il modo di recuperare efficiente dal sistema sanitario nazionale se vuole rimanere tale e forse bisogna anche lavorare su alcuni temi culturali perché probabilmente bisogna lavorare sul tema della aumentare la compartecipazione dei cittadini alla vita civile e alla spesa anche sanitaria cosa più facile a dirsi che che a farsi comunque uno degli obiettivi che oggi ci poniamo visto che poi da questo dovrebbe uscire non dico un documento ma comunque dei punti che svilupperemo successivamente è quello di ragionare attraverso la società scientifica attraverso come dicevo prima l'esperienza dei singoli su come pare sintesi come passare dalla diagnosi ad una ipotetica terapia di cura io ho finito la mia brevissima introduzione lascio la parola ad Alessandro se ha qualcosa da aggiungere e se no poi partiamo bene allora una delle particolarità di questa sessione di laboratorio è ovviamente come vediamo dal titolo la presenza dei rappresentanti illustri delle società scientifiche che spesso e volentieri per un cronista medico scientifico come me significa avere rapporti con gli uffici stampa delle rispettive associazioni e organizzazioni e in qualche modo avere un rapporto con dichiarazioni ufficiali o formali da parte di presidente presidentessa direttore direttrice quindi di solito nella comunicazione le società scientifiche quando parlano al grande pubblico e quindi quando utilizzano un linguaggio non per addetti ai lavori ma un linguaggio accessibile al grande pubblico quindi con una terminologia divulgativa però ragionano sempre in termini diciamo così di presidenza di vertice di questioni pur essendo loro dei clinici di questioni politiche e spesso e volentieri attraverso le loro dichiarazioni parlano di rivendicazioni di categoria rivolgendosi più che alla popolazione rivolgendosi sempre diciamo così alle alle istituzioni questo spirito questo razionale di questo laboratorio invece chiede a voi altri di avere una visione più ecumenica e quindi di ragionare probabilmente di fare di ragionare in termini non della singola società scientifica che porta avanti le sue cose ma una certa coralità sicuramente è gradita ed è ben voluta perché lo vediamo attraverso anche strumenti di comunicazione che ci sono così che sono prerogative a noi riservate come gli algoritmi dei motori di ricerca e noi vediamo che la comunicazione è migliore e la migliore lotta alle fake news viene fatta non attivamente attraverso diciamo così azioni coscienti ma viene fatta ormai anche grazie all'intelligenza artificiale viene viene fatta egregiamente dagli stessi meccanismi dei motori di ricerca vi faccio un esempio concreto tutte le società scientifiche si possono lamentare a volte perché trovano scandagliando il web degli articoli o comunque delle comunicazioni o dei commenti sui social inappropriati forvianti parziali se non addirittura attacchi a questo o a quel professionista sanitario bene questo è quello che succede quando vengono i clinici a dirci ma i media ci hanno attaccato dico ma guardiamo le cose da un punto di vista invece più concreto e statistico noi abbiamo appurato e quando dico noi mi riferisco alla categoria dei giornalisti che è diversa dai comunicatori perché i giornalisti sono iscritti a un ordine professionale e quindi hanno al oltre al codice penale e alle autorità governative hanno anche un rapporto ehm di etica professionale di deontologia legata a al proprio ordine molti di noi comunicatori sono iscritti anche all'ordine dei medici o di altri eh o dei farmacisti o ad altri quindi abbiamo addirittura un doppio ehm vaglio ehm ordinistico quindi non senza dubbio le ehm le categorie delle maggiori testate giornalistiche hanno una eh diciamo così una struttura che difende dalle fake news e questo ripeto eh gli algoritmi di google hanno dimostrato che nelle conferenze stampa eh quando più testate accreditate si muovono in simultanea spazzano via eh le fake news proprio grazie anche a solo dei ehm meccanismi di semplice matematica. Detto ciò detto ciò noi possiamo cominciare a introdurre i nostri ospiti. Esatto chiedo ai discussant se è possibile di rimanere all'interno dei dieci minuti per quanto concerne la loro presentazione proprio perché sei più vicino però. Abbiamo tempi un po' un po' stretti e quindi a questo punto chiamerei eh dottor Gianluca Aimaretti per iniziare la tavola rotonda eh dal titolo il ruolo delle società scientifiche nell'innovazione diagnostica terapeutica e gestionale. Grazie. Prego dottor Raimaretti. Grazie tante eh buongiorno a tutti ringrazio ovviamente eh Motore Sanità per l'invito io non ho delle diapositive cercherò di stare anche meno di dieci minuti così da favorire eventualmente la la discussione. Devo dire che quando eh abbiamo ricevuto come società scientifica l'invito la prima volta a partecipare a questo evento eh forse perché eh ragionando un po' come diceva il collega giornalista prima prima siamo rimasti un attimo interdetti ma che cosa dobbiamo andare a dire? Poi il titolo era accattivante ed effettivamente abbiamo fatto una serie di riflessioni che condivideremo con voi adesso e sui quali eh devo dire che una società scientifica può dire qualche cosa una società scientifica ha delle specificità e delle caratteristiche ma anche sull'innovazione diagnostica terapeutica e soprattutto gestionale qualche cosa può dire. Vi do solo due dati la la società italiana di neocrinologia è una società che è stata fondata eh sessant'anni fa nel millenovecentosessantaquattro ha circa mille trecento soci di cui il quarantaquattro per cento sotto i trentacinque anni quindi è una società giovane si occupa di ricerca di base traslazionale clinica in ambito endocrinologico malattie del metabolismo andrologia e scienze della riproduzione siamo organizzati come società scientifica in club club tematici relativi ai grandi capitoli eh di interesse dell'endocrinologia e delle malattie del metabolismo e in sezioni macro regionali le sezioni macro regionali sono quel momento di eh confronto e di relazione con le altre società scientifiche col territorio con le istituzioni eh regionali. La 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 società italiana di endocrinologia ha due giornali uno che il giornalo due un giornale scientifico vero e proprio che il giornalo of endocrinological investigation che è nel Q1 cioè nel rank più alto dei giornali dell'area endocrino metabolica è un giornale più divulgativo che si chiama l'endocrinologo e attraverso cui cerchiamo di divulgare le coste le nostre cose. Quello che per la SIE è particolarmente importante è la visione di disciplina. La nostra è una disciplina che si occupa di patologie croniche ad altissima epidemiologia. Pensiamo al diabete, all'obesità, all'eteropatia in genere, i disturbi della funzionalità sessuale, la fertilità, le malattie del metabolismo calcio-fosforo e poi le dislipidemie e poi di più di quattrocento, circa quattrocento quaranta patologie rare, in alcuni casi rarissime, in alcuni casi malattie di cui veramente contiamo sulle dita di una o due mani il numero di pazienti almeno in Italia. Detto questo, almeno in relazione alle patologie croniche, e qui entro già un po' dentro alla questione, si stima che circa il trenta-trenta-cinque per cento dei pazienti con malattie croniche abbiano almeno un'endocrinopatia cronica. Il diabete è l'esempio più grande. Fatte queste premesse, quali sono le maggiori criticità per una reale innovazione diagnostico-terapeutica e gestionale entro le quali una società scientifica può partecipare? Abbiamo provato di individuare tre grossi problemi, ma sono alcuni dei problemi, e sono i tre grossi problemi che interessano in particolare la nostra disciplina, quindi i malati di cui andiamo ad occuparci. E già qui c'è un bias nel mio ragionamento, perché parlo solo di malati, invece forse in un ragionamento di questo tipo bisognerebbe iniziare a pensare anche ai sani che potrebbero non essere affetti da patologie croniche endocrinometaboliche, per esempio. I tre problemi che nel breve, medio e lungo periodo, e sono cose che ho già sentito dire più volte questa mattina, cronicità e invecchiamento, l'ha detto anche il nostro Presidente, sostenibilità, quindi problemi economici del Servizio Sanitario Nazionale, e poi, questa è una nostra idea, la reale, la frammentazione, piuttosto che l'unitarietà del Servizio Sanitario Nazionale verso i servizi regionali, cioè in altre parole, per dirla con una sigla di una pubblicità di una volta, One is Better Than Twenty One, dal nostro punto di vista. Questo so che però non è un'idea che tutti condividono. Viviamo più a lungo, e in Italia viviamo anche in condizioni di salute più o meno buone, ma comunque viviamo più a lungo di tutto il resto dell'Europa, ma la spesa sanitaria è passata dai 730 euro pro capite ai 2260 euro del 2022, cioè viviamo più a lungo ma spendiamo più soldi per le cronicità, e questo ci sta proprio perché viviamo più lungo. L'esperienza ci dice che il progresso scientifico, la ricerca in questi anni ha salvato molte vite, ci fa vivere più a lungo, purtroppo viviamo più a lungo certe volte non in maniera ottimale, e questo è il vero problema, il fatto che allunghiamo la vita ma non allunghiamo il periodo di vita in buona salute o almeno in una salute che non richiede una cronicizzazione delle malattie, che dal nostro punto di vista è sicuramente importante. Ovviamente i nuovi farmaci, le nuove tecnologie sono sicuramente efficaci, ma sono molto efficaci e anche molto più costose, anche perché per il loro sviluppo richiedono tutta una serie di investimenti importanti, e poi c'è il problema della sostenibilità economica, del prodotto interno lordo che non cresce e del fatto che ovviamente garantire tutto a tutti come prevede il nostro sistema sanitario non è sempre così semplice e così facile. Da questo punto di vista una società scientifica deve iniziare a riflettere sul ripensamento, non so dire se sul miglioramento, ma di sicuro sul ripensamento del servizio sanitario regionale, perché all'interno di una società scientifica ci sono degli operatori sanitari, i medici, i endocrinologi che ci lavorano, che però sono anche dei cittadini. Noi certe volte dimentichiamo un po' questo aspetto, che siamo da una parte operatori ma allo stesso tempo siamo cittadini, costruiamo il servizio, facciamo parte del servizio, ma potremmo anche usufruirne. Questo è un aspetto di cui bisogna considerarlo. Quindi in un ambito di patologie croniche come sono quelle endocrinometaboliche è ovvio che ripensare a un sistema sanitario in cui si mettono assieme aspetti pubblici da rivedere e collaborazione con i privati, in cui si considerino appropriatezza delle prescrizioni, in cui si considerino non solo i malati ma si iniziano a pensare anche a quelli che ancora malati non sono, che sono sani e che noi dovremmo avere come compito quello di non far ammalare. L'obesità, che per gli endocrinologi è un aspetto importantissimo e sta venendo fuori chiarissimo il dato in questo momento, che probabilmente uno dei fattori che ha determinato una situazione di difficoltà nella risposta al Covid è stato il fatto che noi avevamo una popolazione obesa e l'obeso era un paziente già di per sé infiammato cronicamente nel quale l'iperinfiammazione infettiva ha creato dei problemi ed è una cosa che diciamo tutti, dobbiamo dimagrire, però per dimagrire dobbiamo trovare il sistema per farlo, dobbiamo trovare la sostenibilità delle risorse che non sono solo sanitarie mediche e quindi dovremmo fare in modo che uno già fin da bambino, da adolescente eviti di aumentare di peso. E allora quali sono le possibili risposte che la nostra società scientifica potrebbe dare a questo sistema e che nei prossimi anni cercheremo di fare fino a quando lavoreremo su questi aspetti. Prima di tutto uscire dall'ottica Silos, l'ho sentito dire stamattina, lo ripeteremo secondo me oggi molte volte, cioè dobbiamo iniziare a guardarci che il sistema sanitario, il mondo sociosanitario è più complesso di quanto pensiamo se noi ragioniamo solo per la nostra disciplina e solo a Silos non ne usciamo da questo sistema. Quindi ragionare, uscire dall'ottica di Silos, per quanto riguarda la SIE tre sono le linee di lavoro su cui ci stiamo focalizzando, una è quella ovviamente della formazione e dell'educazione avendo all'interno della società così tanti giovani specializzandi e non solo giovani specialisti, ricercatori giovani, arrivare a fare una formazione, un'educazione nelle varie modalità su queste tematiche e sulla sostenibilità di questo sistema è particolarmente importante, è fondamentale discutere dell'ultima ritrovato terapeutico per la cura dell'obesità, della tiropatia, ma anche parlare di questi aspetti ci sembra importante. Ovviamente non possiamo dimenticare che la ricerca clinica di base traslazionale deve essere fondamentale da questo punto di vista e l'ultima cosa, e questa è una proposta, l'organizzazione di reti endocrino-diabetologiche in tutte le regioni. Noi abbiamo un'esperienza positiva in Piemonte, io lavoro in Piemonte, c'è già nel Lazio, c'è già nel Veneto, ma le reti funzionali e le reti di patologia per quanto ci riguardano sono un aspetto particolarmente importante. E grazie. Grazie mille. Grazie. Grazie a lei, dottor Maretti. Ho qualche domanda, ma la terrei poi alla fine, così la allarghiamo a tutti i presidenti delle varie società scientifiche. Chiamerei il dottor Bortolotti, che è il consigliere nazionale della società italiana di reumatologia. Grazie. Lei ha le slide? Sì. Bene, perfetto. Non sono tanti, quindi penso di stare nei tempi, se me ne proiettano. Io ringrazio dell'invito, sono stato incaricato dal presidente che era occupato, sia lui che anche il vicepresidente, perché c'è in coincidenza dei convegni abbastanza importanti, quindi cercherò di riassumere in qualità di consigliere un po' quello che è stato un po' lo scopo di questa mia presentazione, cioè qual è il ruolo della società scientifica nella innovazione. Prego. Allora, se passa a lei le slide? Ah, perfetto. Sì. Allora, ecco lei. Comunque c'è. Benissimo. Allora, un attimo che, vabbè, questo appunto è il presidente, il professor Gian Domenico Sebastiani, direttore dell'Unità Operativa di Reumatologia del San Camilo di Roma. Siamo 17 nel gruppo consigliare, ben equilibrati dal punto di vista sia dell'estrazione universitaria che spedaliera. Io dirigo un'unità operativa complessa di reumatologia a Trento. Sostanzialmente una slide per definire le materie reumatiche. Eccola qua. Perché spesso non c'è molta così una visione corretta. Faccio fatica a leggere comunque sostanzialmente le materie reumatiche. Vabbè, la società raggruppa, grazie così, oltre 2.000 iscritti che si interessano di queste malattie che sono almeno 200. Ecco, è importante anche dal punto di vista dell'impegno economico, anche delle strategie poi di gestione, suddividerle in tre aspetti. Ci sono delle malattie con una componente autoimmunitaria molto importante, quindi connettiviti, vasculiti che richiedono chiaramente un impegno precoce e importante. Ci sono le classiche artriti di vari aspetti. e poi c'è un numero molto ampio di patologie cosiddette degenerative, tra cui l'artrosi, fibromialgia e quant'altro. Ecco, questi sono aspetti che vanno considerati anche nella programmazione della gestione di queste malattie, che sono circa il 10% della popolazione italiana, quindi sono 5 milioni di soggetti che hanno tendenzialmente anche un'evoluzione cronica. Gli obiettivi, ecco, forse qua è una diapositiva riassuntiva che può un po' spiegare all'interno di questi obiettivi strategici della Sirinatto anche quelle che sono le nostre volontà anche in termini di innovazione e di sviluppo futuro. Chiaramente al primo posto è l'assistenza al malattico con tutti i suoi aspetti, riduzione delle liste d'attesa, la diagnostica, l'attuazione di PDTA. Anche comunque il discorso della telemedicina siamo coinvolti attivamente, la campagna di sensibilizzazione anche per un rapporto diretto, anche preventivo per l'approvazione generale. Sicuramente non possiamo esimerci da fare ricerca e formazione, quindi partecipare alla formazione di linee guida e raccomandazioni e poi anche sostenere quelle che sono realtà nazionali, che ho visto, abbiamo detto, appunto sono molto varie da regione a regione e possono essere distinte universitari, ospedalieri e territoriali. Il piano nazionale, scusate perché c'è un sfasamento, sapete appunto che il piano nazionale, PNRR, ha dato molta importanza, è fondamentale, se ne è parlato penso oggi se ne parlerà in tutte un po' le sale, di questa digitalizzazione e quindi il fascicolo sanitario elettronico, che ovviamente è un punto di partenza che dovrà essere poi esteso in maniera anche uniforme con cosiddetta sintassi, una gestione dei dati unitaria in tutti gli ambiti. La telemedicina ha avuto un sviluppo importante, è inutile dirlo col passaggio poi dell'epidemia che abbiamo sviluppato, che abbiamo passato. Ecco che la reumatologia anche in questa società di scientifica che si occupa proprio di telemedicina ha anche ipotizzato, considerando che le malattie reumatiche sono malattie croniche, la possibile rete che si viene a creare, che chiaramente dipende anche dalla struttura del sistema sanitario, sapete appunto con il M77 si voleva un attimo portare sul territorio anche le competenze specialistiche e questo attraverso poi dei sistemi che possono aiutare sicuramente ridurre dei costi, renderli più efficienti, questo è un discorso non facile e soprattutto anche prevenire sviluppi più gravi e anche mantenere un contatto più stretto con i pazienti, evitare la progressione in qualche modo. La SIR, società, partecipa assieme ad altre società scientifiche, all'associazione appunto che si occupa di sanità digitale, come vedete appunto anche altre società scientifiche e ha tra l'altro appunto l'obiettivo di costruire dei modelli comuni proprio per definire dei modelli di percorsi assistenziali che possono definire meglio, come ho detto prima, anche la gestione e anche l'outcome del malato reumatico. La società italiana di reumatologia per la verità ha già sviluppato un software che è IAR Plus, cioè Innovative Approach in Rheumatology, che è una piattaforma digitale che sta già funzionando, che ha tutti i requisiti per la diffusione e l'utilizzazione e l'utilizzo, nel quale sostanzialmente il patente ha la possibilità anche di inserire le proprie sensazioni, quindi i famosi PRO, cioè Passion Report Outcome, questo è molto importante e quindi ci aiuta anche a capire qual è la risposta alla nostra terapia. Mira al controllo della malattia in tempo reale, ovviamente all'efficienza, l'ottimizzazione del tempo, l'organizzazione delle visite, soprattutto anche in realtà dove c'è un centro, diciamo, hub di riferimento e poi ci sono anche centri un po' dispersi nel territorio regionale e quindi questo potrebbe trarre un vantaggio per i pazienti. Certo, non sostituisce la prima visita, ma può essere un utile sistema per seguire il paziente nel tempo. Accanto a questo, da poco è stato anche attivato e implementato un registro italiano sempre web-based sulla fibromialgia, anche questa è una patologia molto frequente, molto comune, su cui poi si è parlato anche a livello istituzionale, che però ha ancora degli aspetti poco noti, se non altro anche dal punto di vista epidemiologico questo potrebbe servire anche come base poi per definire eventualmente modelli di cura di questi pazienti. accanto a questo la SIR ha un centro studi che si occupa appunto di formazione e si occupa di linee guida, tra l'altro appunto ha collaborato con l'Istituto Superiore di Sanità per la definizione di alcune linee guida importanti, le ultime sono quelle ad esempio sulle vasculiti, trattamento e diagnostica, o anche quello della salute riproduttiva nei pazienti con malattie reumatiche, e poi innovazione vuol dire anche comunicazione, ecco la SIR attraverso questa società si opera per una comunicazione sui canali social e quindi con un rapporto diretto e visibile alla popolazione generale, questo fa parte appunto della diffusione della conoscenza delle patologie reumatiche e viene gestito dagli specialisti, così come ha avuto anche un ruolo con la Federfarma per la distribuzione di materiale informativo nelle farmacie per quanto riguarda i Redflex per esempio sulla diagnosi precoce dell'artrite e da ultimo, questa è proprio l'ultima positiva, innovazione significa anche rapporti con le istituzioni, cioè questo è molto importante, noi abbiamo avuto due passi importanti, la senatrice Cantù che penso che sia qua, che sta proponendo anche un disegno di legge di nuova gestione territoriale dell'organizzazione reumatologica e anche alla camera, l'onorevole Bologna, che assieme all'associazione dei malati, questo è importante, sono sempre presenti, ha diciamo stato provato un statement in cui si sottolinea l'importanza della diffusione, dell'attuazione dei BDTA, dell'equità e la proprietà dell'uso dei farmaci, sapete appunto che dai biologici sono passati ai biosimilari, questo ha creato qualche, diciamo così, anche disparità forse nell'ambito nazionale e questo serve proprio per cercare di definire una certa unicità nel percorso assistenziale. Grazie. Bene, grazie mille a lei, Dottor Botolotto, è rimasto nei tempi in modo millimetrico. Allora, chiamo il Dottor Dentali, Fabrizio Dentali, che è il Presidente nazionale Fadoia. Allora, buongiorno a tutti, intanto Francesco Dentali però, quasi dai, ci siamo quasi. Francesco, perfetto. Io non ho diapositive, starò sicuramente nei tempi, rappresento appunto Fadoia in quanto Presidente. noi siamo una realtà, diciamo, importante, 5.000 soci, un milione circa di ricoveri all'anno e un numero di pazienti trattati sia come ricovero che come ambulatori, diciamo, molto molto importante. sentivo il discorso iniziale, è chiaro che noi rappresentiamo da un certo punto di vista una parte dei medici del futuro. Perché? Perché i pazienti, ai noi, e questo mi dispiace per i pazienti, come è stato detto, stanno diventando sempre più anziani e sempre più luri patologici. Questo è il destino dei nostri pazienti. e evidentemente, come è già stato sottolineato, qualcosa stiamo sbagliando, no? Noi siamo precipitati, e lo dice il rapporto Ocse, recentissimo nella graduatoria europea come aspettativa di vita, arrivando dal secondo all'ottavo posto, quindi non stiamo andando benissimo a dire la verità, e siamo al ventisettesimo posto, ventisettesimo in Europa, per aspettativa di vita libera da malattia negli oltre 65 anni. Quindi questi sono i numeri. La spesa sanitaria pro capite per il sistema sanitario nazionale è circa 2.700-2.800 euro, meno della metà, 50%, meno del 50% di quella della Germania, così come è meno del 50% il numero di posti letto rispetto ai posti letto della Germania. Quindi siamo più anziani, anche se fra un po' non saremo i più anziani, perché stiamo precipitando, siamo molto malati e con pluri patologici e cerchiamo di spendere pochissimi soldi. Quindi quello che ci ha chiesto è di riorganizzarci, di innovarci e riorganizzarci per fare meglio con questa situazione di base e queste risorse. Quindi questo è importante da sapere, perché la questione forse non dovrebbe essere solo su di noi, ma la risposta dovrebbe essere iniziamo a mettere davvero dentro delle risorse sia economiche che organizzative per migliorare la situazione. In questo momento sapete che, e poi vengo a quello che fa Fadoi, sapete che circa 27 miliardi di euro ogni anno sono la spesa sulle famiglie per il sociale. Quindi questo è il punto, quindi è una situazione importante, perché uno dice ma arriva il PNRR, 3 miliardi di euro. A parte che sono spot, ma poi gli altri 24 rimangono sempre sulle famiglie. Perché la spesa sociale, tra l'altro in Italia, è organizzata sulla singola famiglia, non su una spesa sociale come nel nord Europa, per esempio, con delle case medicalizzate. Quindi questo è già un qualcosa di importante da dire. Comunque sia, dette e fatte queste premesse, io penso che Fadoi, che è appunto questo tipo di società, che basa la sua esistenza su due cose, uno è la formazione dei medici internisti e il secondo pilastro certamente è la ricerca, quindi per l'innovazione. Quindi Fadoi basa il suo esistere su questo e noi come internisti siamo molto convinti di avere adesso, di avere nel futuro, un ruolo centrale per la sanità. Ci serve l'innovazione? In quale modo noi andiamo verso l'innovazione? Beh, io penso che l'innovazione debba essere almeno, diciamo, su due ambiti importanti. Allora, il primo è un ambito formativo in cui noi stiamo credendo molto, perché quando io ho visto il titolo innovazione diagnostico-terapeutica, chiaro che ci sta circondando un'innovazione diagnostico-terapeutica, ma noi dobbiamo essere al centro del campo, al centro del discorso, quindi dobbiamo essere in grado di sfruttarla al meglio. E sapete, questo lo diceva Gaiat che ha inventato la medicina basata sulle evidenze, nel 1992 un medico per tenersi aggiornato nel suo campo, nel suo campo, nel 1992 doveva leggere 16 articoli al giorno. Quindi adesso, che sono passati 32 anni, io Gaiat l'ho conosciuto, tra l'altro un internista, quindi è un grande vanto per noi internisti. Non è stato il primo a parlare di medicina basata sulle evidenze, perché era Sacket, ma Gaiat è stato ed è un grande. Adesso è chiaramente per noi l'innovazione è un continuo, quindi quello che per noi è l'evidenza, e mi fa un po' specie le linee guida del Ministero, pensare quanto le linee guida diventino vecchie in un tempo così rapido. E allora ci vuole un'innovazione nel fare formazione. E noi lo stiamo facendo attraverso diversi mezzi, per esempio utilizzando davvero anche l'intelligenza artificiale anche nella formazione, ma poi andando su una formazione più pratica e accreditata, quindi cercando in qualche modo di superare questo sistema degli ECM, che sappiamo tutti, insomma, fa vedere un po' l'accordo. Due o tre mesi fa ci hanno minacciato se avevamo o non avevamo fatto i 150 punti degli ECM, quindi tutti quelli che avevano un'amministrativa hanno messo l'amministrativa a fare FAD. Questo ovviamente sto scherzando, io avevo già 220 punti, quindi ero tranquillissimo, però è chiaro che il sistema degli ECM mostra un pochettino l'accordo. Quindi bisogna andare verso una formazione nuova, una formazione che deve tenere conto di quelli che saranno i sistemi che già adesso ci stanno aiutando e che nel futuro ci aiuteranno molto di più, perché l'intelligenza artificiale è fondamentale e non possiamo pensare che in medicina non esista, accompagnata dal ragionamento clinico e dall'esperienza clinica, e questo è importante. E poi ci sono delle innovazioni che FADOI sta portando avanti, innovazioni, diciamo, gestionali. innovazioni gestionali che in realtà noi stiamo cercando di portare avanti, ma in altri contesti europei o extraeuropei sono innovazioni già presenti. Allora, proprio perché il malato è un malato ormai pluripatologico, soprattutto nel contesto del ricovero, pensare che il malato possa stare in un contesto di monospecialità e la loro specialità diventa difficile pensare. Quindi noi dobbiamo superare la logica dell'unità operativa per andare verso la logica dei dipartimenti dove malati come sono adesso pluripatologici possono essere gestiti al meglio superando le, come dire, piccole gelosie. Il secondo punto, andando dietro a questo tipo di ragionamento, vale per il malato chirurgico. Questo è qualcosa che è già presente, anche questo soprattutto nel nord d'Europa o negli Stati Uniti, la logica del co-management. Quindi noi come medicina interna stiamo lavorando molto, dopo c'è il dottor Scatizzi, che ne può essere testimone appunto. Stiamo lavorando molto nella logica del co-management perché è giusto che il chirurgo faccia al meglio il suo mestiere, che è il chirurgo. E quindi dall'altra parte un malato sempre più complesso, sempre più pluripatologico, deve essere gestito dai medici che lo trattano. Ultimo punto, e poi chiudo e sono assolutamente nei tempi, ultimo punto è la questione dei posti letto. È chiaro che noi dobbiamo cercare dei modelli per cui i nostri malati vengono ricoverati meno. Questo è chiaro. Prima il collega parlava di prevenzione e sappiamo che, adesso stiamo rifacendo le carte del rischio, nella prevenzione andiamo male. Il numero di pazienti obesi o sovrappeso non è in riduzione, il numero di pazienti fumatori non è in riduzione, il numero di pazienti che hanno un adeguato controllo del colesterolo non è in riduzione. Lieve riduzione dei pazienti fuori range per l'ipertensione. Questo è quello che è la prevenzione. Quindi dobbiamo iniziare davvero a parlare di prevenzione, una prevenzione globale che noi come medicina interna stiamo facendo. Ma, dicevo e torno e finisco, la questione dei posti letto. È chiaro che i malati andrebbero trattati a domicilio, ci sono delle esperienze nordamericane dove un numero anche consistente di malati acuti viene trattato a domicilio. Noi ovviamente in questo momento non siamo pronti. Non esistono esperienze italiane vere di malati acuti che vengono monitorati e telemetrati a domicilio. Però dobbiamo andare verso questo sistema. Due aspetti. Uno, l'aspetto delle case di comunità, dove di nuovo, per superare la logica del poliambulatorio, perché attenzione, molte delle case di comunità in questo momento sono dei poliambulatori. Poliambulatori che sono più vicini al paziente. Bene, quindi il paziente userà meno la macchina perché la casa di comunità è più vicina, però trova un poliambulatorio con gli stessi specialisti che non si parlano. E quindi invece bisogna anche qui avere una regia comune. Sapete che non hanno poi firmato l'accordo sulle sei ore dei medici di medicina generale, cosa ragionevolissima, considerando che molti dei medici di medicina generale sono più che massimalisti e negli ultimi 12 anni sono ridotti del 15%. E quindi, per esempio, in questo senso la medicina interna, in alcune esperienze, sta facendo da coordinamento nelle case di comunità. E l'altra cosa che si può fare e si deve fare è sulle case di riposo. Noi sappiamo che molti dei pazienti delle case di riposo appena si riacutizzano vengono riospedalizzati. Quindi una telemedicina fatta in un contesto dove ci sono già dei mezzi, c'è già della sanità e dove ci sono tanti pazienti nello stesso posto è quello che noi come medicina interna stiamo iniziando a fare. Ho finito. Perfetto. Grazie mille, la tua dentale. Allora, siamo già andati. Io farei una innovazione, visto che parliamo di innovazione. Allora, inviterei accanto a me Cinzia Finocchi e se vogliamo occupare il rappresentante dell'Associazione Chirurghi Ospedalieri oppure se ci sono dei relatori che devono scappare via ci facciano presente la cosa che li anticipiamo man mano. Prego, si è comodi pure così. Perché ho chiamato? Quindi, scatti. C'era Fabrini. Fabrini, Fabrini. Ok, ok. Scusa, avevo saltato la pagina. Infatti c'è la... Quindi tu introduci Fabrini. C'è il dottor Fabrini, Presidente della Società Italiana di Nefrologia in sezione della Lombardia. Buongiorno e grazie per l'invito. Allora, anch'io non ho diapositive e avevo preparato, diciamo, una breve scaletta che mi fa piacere sia stata introdotta da alcune delle parole dei moderatori nella presentazione di questa sessione. Noi rappresentiamo una società che si occupa di una malattia renale cronica che dagli studi epidemiologici dovrebbe rappresentare circa il 10% della popolazione. Quando invece andiamo ad estrarre i dati dei vari database regionali ne troviamo molti, molti meno come identificati perché è una malattia la maggior parte delle volte silente e che quindi non viene riconosciuta, non viene inviata. Quindi il nefrologo è identificato spesso come colui che poi pone rimedio alla malattia quando va nella sua fase terminale che è fondamentalmente il trattamento dialitico, cioè l'emodialisi o la dialia di peritoneale. E solo per dare un esempio dei numeri parlando della Lombardia che appunto rappresento come diciamo porzione regionale della società nazionale, l'unica che esiste, società scientifica per fortuna che rappresenta i nefrologi e abbiamo 8000 pazienti dializzati. Quindi sono un numero basso rispetto ai 10 milioni di abitanti della Lombardia ma se voi pensate al costo che questo genera per il sistema sanitario nazionale vi rendete conto che un paziente emodializzato in dialisi peritoneale comunque una media di un paziente in dialisi costa circa 35.000 euro l'anno trasporti esclusi. Trasporti esclusi, trasporto è diventato un tema che è entrato anche nelle regole di sistema della regione perché oramai sfioriamo cifre diciamo a 7-0 per pagare i trasporti sanitari semplici dei pazienti dializzati. Trasporto che è un LEA quindi è un diritto dei pazienti e deve essere riconosciuto. Quindi noi vediamo spesso probabilmente identificati come una categoria che si occupa di una malattia che ha una terminalità veramente complessa nella fase avanzata perché è il sunto dei risultati diciamo delle complicanze delle malattie che cerchiamo di gestire per prevenire di arrivare lì. Abbiamo sentito parlare di diabete, abbiamo sentito parlare di pazienti pluricomorbidi e il dializzato ovviamente rappresenta la summa di tutto ciò però rappresentiamo per chi ci deve governare per essere ecumenici un costo quindi organizzazione e sostenibilità mi sembrano due termini che io volevo già sottolineare in questo argomento perché se mi metto dall'altra parte è chiaro che nei famosi obiettivi che danno le regioni ai direttori generali nel erogare prestazioni di salute è chiaro che la dialisi non rientra mai in questi perché non si può chiedere di aumentarla perché in realtà è un fallimento terapeutico e quindi se noi identifichiamo la nefrologia in questo sarà sempre un qualcosa in cui cercheremo di intervenire almeno possibile anzi speriamo che le dialisi si riducano ma per farlo invece ci vuole innovazione sia organizzativa sia innovazione di tipo terapeutico. Da pochi anni a questa parte la nefrologia ha avuto finalmente delle nuove armi terapeutiche per fare la prevenzione mancavano da fin troppo tempo che ci potrebbero permettere di ridurre l'arrivo alla dialisi e lavoriamo sempre fin troppo poco sia a livello di sensibilizzazione della popolazione generale sia a livello interno alle nefrologie per quella che è l'alternativa alla dialisi cioè l'immissione all'istadietra pianto che ha un costo aumentato all'inizio del trattamento ma che socialmente umanamente e poi anche clinicamente nel lungo periodo dà un vantaggio di sopravvivenza e di qualità della vita ai nostri pazienti. Allora secondo me una società scientifica quello che dovrebbe cercare di far capire agli stakeholder e a chi invece ci ci governa è che è necessario comprendere quali possono essere le linee di indirizzo organizzative perché le risorse si concentrino sulla prevenzione e poi eventualmente sull'invio al trapianto non per scotomizzare la qualità dell'assistenza al paziente dializzato cronico che deve essere la massima possibile sulla quale non bisogna mai mollare perché ovviamente è un paziente iper complesso ma soprattutto per stimolare modelli organizzativi che troppo spesso poi noi società scientifiche dobbiamo dirlo questo anche all'interno dell'organizzazione delle singole strutture e all'interno dei singoli ospedali si tende a faticare nel vedere quale deve essere la prospettiva organizzativa e soprattutto magari si fa fatica anche a farla comprendere a chi deve dirigere un'azienda la nostra non è una specialità ambitissima per tanti motivi anche se vogliamo anche veramente veniali come tante altre specialità adesso del panorama internistico però c'è anche oltre al tema del non avere molto rinnovo della cassa c'è anche un tema di come vengono spesso usate all'interno dei dipartimenti e delle strutture le risorse specialistiche su questo bisogna assolutamente che tutti assieme si faccia un punto della situazione perché abbiamo visto ospedali svuotarsi e strutture svuotarsi del loro significato perché se una testa se uno vale uno e tutti possono fare tutti vengono messi tutti a fare la stessa cosa semplicemente per dare alla direzione o a qualcosa la sensazione che il processo si è governato questo porta poi alla disabitazione del sistema sanitario e alla perdita delle competenze molto specifiche quindi su questo bisogna fare attenzione quindi una società scientifica dovrebbe arrivare a chiedere di dire quali sono le priorità per quella società scientifica cioè portarle a livello politico e poi cercare di applicarle con modelli innovativi e organizzativi nelle nefrologie spesso manca un percorso prestabilito e predefinito con risorse dedicate perché non hanno rendicontazione è tutto un lavoro di back office per l'immissione in lista di trapianto vi faccio questo esempio semplice immettere in lista di trapianto un paziente che vuol dire allungargli la vita e migliorare la sua qualità di vita richiede tutto un processo di cura che va fatto a tavolino che non ha niente di rendicontato è solamente una situazione manageriale e di gestione clinica nel ruolo del case manager fondamentalmente e tutto questo questa fatica a dire che c'è bisogno di una risorsa per fare un lavoro di così grande importanza ma questo invece dovrebbe essere stabilito come cosa che norma il lavoro di quello specialista perché in qualche misura riduce il numero di pazienti che entrano in dialisi e aumenta il numero di pazienti che ne escono una volta che ci sono entrati per andare verso un qualcosa di più riabilitativo oltre al modello organizzativo ovviamente e riguardando appunto la sostenibilità costando noi tantissimo perché siamo tra le patologie più costose perché magari nel breve costiamo meno di altre patologie ma sono magari malati che sopravvivono a lungo fortunatamente e avendo il tema dei trasporti e il tema che sta diventando un problema enorme la regione Lombardia sta cercando di centralizzare trasporti sanitari e trasporti secondari assieme per trovare intanto per trovare vettori perché le tariffe attualmente vigenti sono anche economiche per i vettori perché il costo della benzina il costo dell'autostrada il costo della materia prima è diventato veramente importante e quindi spingere verso la diospedalizzazione e la nefrologia l'ha sempre fatto la dialisi peritoneale metodiche assistite di dialisi al domicilio che sono presenti in altri paesi anche non lontani e la telemedicina per gestire sempre di più pazienti che vanno al domicilio a fare magari una metodica complessa e sono sempre più anziani con nuclei sempre più fragili attorno a loro deve essere sicuramente un altro momento di stimolo per ridurre l'ospedalizzazione ridurre quindi anche i costi collegati al trasporto e tutto ciò che questo implica da un punto di vista gestionale nell'ultimo minuto ho terminato invece per quanto riguarda la parte terapeutica come accennavo prima noi adesso abbiamo dei farmaci e delle possibilità terapeutiche e ne arriveranno degli altri quindi ci sarà assolutamente la necessità di studiare gli effetti combinati di tutti questi farmaci ovviamente ogni azienda ha studiato il suo e non ha studiato la combinazione di più sulla progressione verso la malattia renale se noi riuscissimo ad abbattere ulteriormente la funzione renale come abbiamo fatto con gli acci inibitori come stiamo facendo con gli SGLT2 da ora in avanti potremmo forse un domani pensare di dire magari non diminuiranno i dializzati perché si allungherà l'aspettativa di vita quindi qualcuno in più con l'insufficienza renale molto anziano lo avremo ma sicuramente avremo fatto qualcosa di concetto per allungare quegli anni che diceva il collega di vita sana sopra i 65 anni concluso grazie mille grazie per questa parte sulla dialisi che in effetti a volte sfugge un po' e soprattutto sulla parentesi non indifferente quando si parla di un'organizzazione di cosa vuol dire anche magari lavorare su qualcosa che è parallelo alla patologia come quello dei trasporti non è una voce da poco evidentemente Alessandro volevo sentire se è il caso di anticipare le relazioni dei relatori che devono scappare via a breve se forse questo è il momento di abbiamo solo più il dottor Scatizzi che è il presidente dell'associazione chirurghi e la dottoressa Finocchi che è il presidente del Pierangelo Gerpetti mi sembra che aveva lui dovrebbe andare via quindi forse è il momento che venga adesso allora è quella sulle cefalee la parte creiamo creiamo una è una parentesi all'interno va bene va bene venga venga come la vedi anche qua si vuole lo vedo ma il titolo è molto come dire impegnativo perché innovazione farmacologica e cefalee verso la soluzione del problema punto interrogativo parziale 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 ma ottimo piuttosto ottimistica ecco bene grazie ringrazio motori sanità per l'invito i moderatori e posso avere la prima diapositiva non so se riusciamo a girare la telecamera a inquadrare il relatore su quel lato proprio per non avere perché in questo momento non lo vediamo nel collega poi ci dite anche perché abbiamo 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 una presenza di congressisti collegati da remoto quindi abbiamo anche l'esigenza di inquadrare con la telecamera i nostri relatori bene ma facciamo partire la diapositiva grazie quindi stiamo parlando di emicrania quindi una patologia molto comune che ha 2000 anni di storia accendiamo anche questo microfono ecco bene e quindi abbiamo vissuto in questi ultimi 6-7 anni negli Stati Uniti un anno in più una grande rivoluzione farmacologica terapeutica ma anche interpretativa ecco questo è il mio conflitto di interesse l'emicrania l'emicrania a fin dei conti è una malattia semplice da diagnosticare purtroppo ancora ci sono difficoltà in questo senso ma nei fanciulli bambini adolescenti può cominciare principalmente con un dolore a livello frontale temporale poi si sposta a livello anche occipitale e questo crea tutto il problema che vedremo della cosiddetta cervicale Helius Galenus la coniò questo nome 2000 anni fa ed è un nome azzeccatissimo perché ha bisogno del cranio per essere per esprimersi questa patologia ha varie caratteristiche dolore appunto localizzato come abbiamo detto 40-72 ore e che ha delle caratteristiche è spesso quasi sempre non sempre monolaterale ed ha una caratteristica di pulsatilità c'è un dolore pulsante l'arteria temporale superficiale pulsa normalmente e non fa male neanche correndo molto dilatata ma durante l'attacco meccanico fa molto male e poi qualsiasi movimento piegare la testa scuoterla salire le scale crea un aggravamento di questa patologia quindi queste sono caratteristiche tipiche di un fenomeno che chiamiamo allodinia cioè una sensazione normale diventa dolorosa e questo sarà utile poi dopo comincia da bambini e la incidenza vedete che aumenta fino verso la 15 anni e poi le femmine diventano più incidenti dei maschi e quindi questa è una patologia molto femminile quindi verso i 35 anni abbiamo 25% di donne che soffrono di mal di testa e un 8% di uomini la cosa interessante è che è una patologia dei giovani anzi è una patologia dei giovani e delle persone pieno della loro attività quindi una donna che deve lavorare la sua famiglia deve anche divertirsi non può farlo perché ha questa forma patologica che nell'anziano tende a scomparire e questo è sorprendente perché lo vedremo dopo ma la questa prevalenza così forte giustifica il fatto che al mondo esiste un miliardo e duecento milioni di sofferenti di cui 120 milioni 10% nella forma cronica cioè più di 15 giorni al mese per tre mesi consecutivi se c'hai cefalea diventi un emicanico cronico con grandi difficoltà esistenziali lavorative eccetera eccetera quindi se guardiamo le fasce di età vediamo che a 80 anni siamo al 2-3% però voi avrete tutti i pazienti che dicono loro lo dicono ma qualcun altro glielo dice ma ho la cervicale perché mi fa male qua e senza pensare che il cranio finisce qua a livello frontale è molto più alto a livello occipitale è molto più basso e questo non collima affatto con l'evidenza della risonanza magnetica che fa vedere che a 80 anni evidentemente le lesioni osteoartrosiche cervicali sono molto più forti ma la patologia scompare quindi non torna e ha un'evoluzione durante l'arco della vita per cui hanno anche pazienti geriatrici per carità con l'emicrania ma molto pochi per fortuna quindi si tratta di numeri molto vasti che hanno creato anche un grande problema con questi farmaci innovativi perché poi il ministero tutti i governi hanno tirato il freno a mano quanto hanno potuto per far prescrivere il meno possibile nuovi farmaci che ovviamente sono più costosi ma alla fine non sono stati tanto costosi quindi il burden economico dell'emicrania con i costi diretti ma soprattutto quelli indiretti di assenteismo e presenteismo sono molto elevati questo è un dato obsoleto del 2005 30 miliardi ma sicuramente saranno molti di più oggi allora ma da cosa dipende questa malattia che colpisce da giovani si fa vivere male e poi alla fine anche passa se guardiamo i fattori scatenanti c'è un grande caos perché il principale è lo stress ma più che altro il rilassamento dopo lo stress io vengo sono l'ultimo allievo del professor Sicuteri e quindi nasco dalla medicina interna come i colleghi che ho sentito parlare poi però per motivi così accademici sono diventato professori di farmacologia clinica quindi l'esame di farmacologia ve lo ricordate tutti è molto stressante lungo complesso eccetera quindi una fanciulla un ragazzo che soffre di emicrania prende anche 30 e lode ma nel pomeriggio poi gli si scatena un attacco di manifesto quando si rilassa da questo grande stress spettacolare questa è un po' la storia ma poi il weekend oppure condizioni di stress molto prolungato quando queste finiscono poi si aggrava gli emicrania ma gli ormoni gli ormoni sessuali femminili dicevo prima al collega ho cercato di fare anche una specializzazione in endocrinologia per capire un po' la relazione tra estrogeni e cefale quello non siamo riusciti a capirla però abbiamo capito altre cose quindi il digiuno una signora in carriera che non mangia poi così si mantiene la linea a pranzo gravissimo che poi nel pomeriggio si attiene l'attacco poi bevande alcoliche cioccolata fondente cioè tutte queste cose sono talmente variabili che questo non ha aiutato a capire di che si trattava ma anche farmaci di profilassi che abbiamo usato fino ad ora beta bloccanti calcio antagonistici canto antagonisti antidepressivi triciclici certi un paio di anticonvulsivanti e altri sono talmente eterogenei che chiaramente non hanno mai dato un indirizzo di come potesse avvenire tutto ciò e tutta questa eterogeneità si manifesta qua in una insufficienza terapeutica perché vedete che quella curva a un mese già dall'inizio del trattamento con questi farmaci qua il 50% dei pazienti li abbandonano e a un anno abbiamo soltanto un 20% che rimangono in trattamento quindi la persistenza è talmente banale e misera che significa che non stiamo colpendo il bersaglio giusto e allora abbiamo un 80% di pazienti che non avevano soluzione quindi cominciamo a girare da un centro cefale all'altro quindi da Firenze a Genova da Milano a Roma eccetera eccetera quindi abbiamo bisogno di qualche ipotesi qualche teoria per capire dove mandare la nostra pallottola magica la teoria vascolare la serotonina questo il cicuterio la cortica spazio in depression infine l'infermazione neurogenica all'inizio sostanza P poi però e qui faccio una sottolineatura in questa rinone poi la ricerca di base è sempre fondamentale e va sempre finanziata e non dobbiamo dimenticarci di questa perché a un certo punto a San Diego questi biologi molecolari predicono che il genere della calcitonina la tiroide produce calcitonina ovviamente ma attraverso un RNA alternativo nel tessuto nervoso periferico viene prodotto il peptide relativo al gene della calcitonina nome sfortunatissimo se se ne parla con il medico di medicina generale vi vogliamo comunicare questo messaggio è difficilissimo capite bene però è lui e appartiene questa famiglia allora tanti anni fa dicevo con un collega oculista che mi dava occhi post mortem misuravamo il rilascio di questi neuropeptidi dal corpo ciliare e iride umano e a quei tempi si misurava prima la sostanza P perché si pensava fosse la sostanza P forse il mediatore del dolore non usciva niente poi però misurando il CGRP abbiamo visto che stimolando con capsacina che è peperoncino ugente quindi stimola i nervi vedevamo uscire il CGRP quindi poteva essere lui poi altri dati di altro tipo ci hanno fatto capire chi era lui il CGRP non produce dolore acuto ma nel topolino iniettato nella zona periorbitale che insomma più o meno mima la situazione della cefalea crea un'allodinia cioè se poi lo stimolo meccanicamente con gli finamenti di Fonfey allora lui risponde si agita quindi ha dolore e questo ci ricorda il fatto che una pulsazione normale diventa pulsazione dolorosa durante l'attacco emicranico iniettato CGRP negli soggetti emicranici vedete la parte bassa a destra tutti quei picchi sono attacchi simili emicranici che durano ore quindi insomma ci poteva stare che poteva essere lui la causa e quindi l'industria farmaceutica comunque ha creduto a quest'ipotesi hanno sviluppato due tipi di farmaci anticorpi monoclonali diretti contro il peptide CGRP e uno erenumab diretto contro il recettore e vedete in questa piccola metanalisi forest plot il diamantino è spostato a favore nettamente a favore degli anticorpi quindi sono efficaci ma la cosa interessante è che quando proviamo il bersaglio giusto i farmaci diventano anche sicuri questo è molto questi sono molto sicuri vedete invece il diamantino degli effetti avversi si piazza sull'unità tanti effetti collaterali dava il farmaco o i farmaci quanti il placebo e se noi pensiamo che dobbiamo curare persone giovani donne giovani magari in carriera con tanti impegni eccetera non possiamo farle stare bene dell'emicrania ma creare gli effetti collaterali come amitriptilina sonnolenza topiramato con tutti i disturbi anche di carattere psichico a volte dimagrimento oppure frunarizzina si ingrassamenti di 10 kg non è possibile quindi qui abbiamo toccato un bersaglio importante con un profilo di efficacia e sicurezza adeguato ma sono stati anche sviluppati piccole molecole classiche che bloccano il recettore per il CGRP e che sono quindi orali che possono essere usati sia per la profilastica come gli anticorpi ma anche come sintomatici quindi per la prima volta abbiamo dei farmaci che servono per fare tutte e due le cose e lo fanno in maniera sicura quindi questo è un cambiamento epocale oltretutto la faccio breve potrebbe quando blocchiamo CGRP blocchiamo anche quel fenomeno molto drammatico e molto preoccupante per il paziente soprattutto la prima volta che succede che è l'aura emicranica non ci vede più da un occhio e quindi oppure insomma altri fenomeni visibili molto importanti altri fenomeni che sono anche oggetto di accesso a pronto soccorso esami resonanze ovviamente a questo corso tac inutili completamente inutili ma quindi quando abbiamo un'innovazione di questo tipo però questo ci consente anche di avere delle informazioni importanti su cosa causa questa malattia quali sono i meccanismi su cui puoi intervenire anche successivamente per capirla meglio e quindi se noi affrontiamo molto bene così una malattia con un anticorpo monoconale che ha un ingombro sterico importantissimo quindi non passa la barriera emetencefalica vedete questo è nel ratto ma insomma se c'è 100% nel plasma 10% nella milza ma anche nel ganco trigemino che è sostanzialmente periferico nel cervello ne va l'un per mille quindi non può funzionare e questo è anche il grande problema dell'Alzheimer la scelosi multipla nella fase avanzata questi farmaci non passano bene o non passano quindi sebbene la malattia strana curiosa eccetera possa avere un'origine centrale il dolore si genera a livello periferico e quindi qui sono importanti lavori che fanno vedere che esiste un nervo a parte sopra con la varicosità oppure il terminale che libera il CGRP per produrre dolore attraverso un'azione su questa cellula che però in tutte queste riviste Lancet che cos'è questa cellula nessuno lo sa nessuno lo sapeva e arrivò alla conclusione quindi noi abbiamo pensato che questo avvenga a livello del vaso a terra temporale superficiale quante altre e i suoi terminali del nervo con le sue varicosità da dove vengono liberati i neuropeptidi il CGRP in particolare e abbiamo ipotizzato rispetto a tanti altri lavori abbiamo un grant europeo di quelli che ci fa lavorare in questo senso e le fibre nervose che contengono CGRP da che sono dentro vedete tutte queste NN vuol dire fibra nervosa dentro una cellula di Schwann che sono le cellule che sostengono i nervi REMAC quindi per fibre non mielinizzate libera CGRP lui agisce sul suo recettore in un'altra cellula di Schwann di una cellula mielinizzata a delta che conduce in genere i stimoli dolorifici attraverso tutta una serie di meccanismi se arriva a uno stimolo normale piccolo fisiologico la pulsazione cardiaca questa diventa dolorosa e se noi quindi riusciamo ad agire a questo livello facciamo ancora meglio i nostri pazienti perché se eravamo al 20% con i farmaci scoperti per caso amitriptilina petabloccanti eccetera eccetera non sapevamo cosa stavamo facendo con gli anticorpi monoclonali vedete questo io buongiorno ciao